Ciao ragazze, la mia review di oggi sarà sul nuovo arrivato in casa Flormar, il mascara tripla azione della nuova collezione Bohemian. Eccolo qui. La piccolarità di questo mascara è lo scovolino, infatti all'estremità del tappo vi è questo tecnologico meccanismo che ora mi mostrerò, che trasformo Ardo in tre semplici twist. Lo scovolino si presenta in silicone morbido e nella posizione numero uno, che è questa qui, vi dà la possibilità di allungare il vostro sguardo. Passo alla posizione numero due, guardate come cambia la forma dello scovolino e con lo scovolino in questo modo vi dà la possibilità di incurvare le vostre ciglia. Altro twist e per magia lo scovolino si trasforma ancora una volta per regalarci delle ciglia volumizzate. Ok ragazze, passiamo all'applicazione, chiamolo in posizione numero uno. Questo è l'effetto dopo una sola applicazione del prodotto. Proviamo l'effetto incurvante sulle ciglia. Per avere l'effetto incurvante dovete leggermente far ruotare lo scovolino quando lo otticate e poi tirarlo su. Guardate la differenza. terza posizione, andiamo a vedere l'effetto lumizzante. Per dare l'effetto volume dovete mettere lo scovolino alla base delle ciglia e fare questo movimento zig zag mentre andate su. La texture di questo mascara è come potete vedere di un nero intenso e resiste tutta la giornata. Un mascara meraviglioso creato apposta per regalare look diversi. Il nostro consiglio è secondo me è un must have da avere nella vostra borsetta. Bene ragazze, per oggi è tutto. Un bacio grande, a presto!